è meglio mangiare sennò va addormento si si è meglio meglio che mangio sennò dormo Luca! Mojzeee! Seeeeee! Seeeeee! Ma è bello! Ma è bello! Azzazzaloni questo! Top player! Il nostro top player! E' diventato un top player! Ma come fuori gioco no? No questo Pino dice sempre fuori gioco non c'è mai qua fuori gioco non c'è mai attenzione però gioco tra le linee miretti fagioli Lucio Locatelli e il gol di Ken il vantaggio della Juventus alla prima azione per modo di dire al primo passaggio per modo di dire nello spazio e adesso tutti uniti tutti ad esultare gatti con fagioli su le miretti tutti si abbracciano il gol di Ken come aveva detto ieri Allegri GOOOOOOOL Mojzeee! GOOOOOOOL Assis di Locatelli che in buca è regolare è regolare santo Dio vai primo di Robarta primo gol se allora questo dicono le statistiche SIUM ho pur detto che avrebbe segnato Ken Ken ve l'ho detto che aveva segnato Ken si è liberato una volta del suo marcatore ha fatto gol la capra ha fatto gol ma infatti può fare gol soltanto così non quando fa gol Mojzeee! SEEEEEEE! Mojzeee! bello! bravo bravo e si balla balliamo Mojzee! si doveva sbloccare no Mojzee la partita si manda come voceva veniva la prima volta che abbiamo velocizzato con due passaggi di prima è stato Miretti da questa palla eccezionale mio fratello Manuel Locatelli Locatelli Miretti mio fratello Locatelli SEEEEEEE! NO! Mojzee! Mojzee! che palla di Locca! che palla di Locca! siii! grande Miretti che spalla alla porta fa questa specie di passaggio apertura per Locca dai! ma che Locatelli e che Locatelli giocatore in campo Cassarola bravo anche Miretti Cassarola tutto di Locatelli davvero giocatore in più di questa Juve dei suoi Miretti Locatelli Ken! 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 come ma Super Mario non ci credo ma bro ma guarda che palla di Locca bellissima eh mamma mia Locca ma guarda anche che stop di Ken ad entrare verso il campo KEN! 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 No, non, 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 non!